Il fondo Greybull McLaren ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante irrevocabile con il Consiglio di amministrazione e gli azionisti di FIMER per l'acquisizione del pieno controllo e della proprietà dell'azienda. È quanto si legge in una nota ufficiale arrivata proprio da parte del fondo. Greybull Capital acquisirà il 100% di FIMER a fronte di un investimento di 50 milioni di euro orientato a sostenere il rilancio dell'azienda. Il Consiglio di amministrazione ha scelto McLaren Applied in considerazione delle importanti sinergie strategiche e industriali e del solido commitment finanziario dimostrato nel corso delle trattative. In più, in particolare, l'investimento di McLaren Applied prevede un conferimento iniziale di 5 milioni di euro immediatamente dopo l'autorizzazione da parte del Tribunale di Milano.